Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, sono sempre io Razz. Prima di iniziare vi invito a seguire la mia pagina Instagram e soprattutto ad iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. L'ospite di oggi lavora come tecnico di laboratorio video in un istituto superiore di Udine. Parallelamente inizia la sua carriera cinematografica autoproducendosi lungometraggi e cortometraggi di genere horror. Anche se per certi aspetti i suoi primi lavori sembrano essere amatoriali, Lorenzo Bianchini approfondisce un genere italiano apparentemente scomparso dal cinema tradizionale che è quello del gotico padano. Coraggiosamente Bianchini rimane sul territorio natio in Friuli dove approfondisce le tematiche del gotico quali miti e credenze popolare fino a realizzare persino un lungometraggio in lingua friulana. Bianchini utilizza a suo favore quindi la territorialità del Friuli, uno dei punti di forza che dovremo maggiormente sviluppare all'interno del nostro cinema. Sto parlando delle differenze regionali, delle differenze di tradizioni che contraddistinguono ogni singola regione del nostro paese potrebbe portare secondo me a creare una industria cinematografica molto più vasta e molto più ricca rispetto a un romacentrismo che stiamo vivendo nel cinema italiano di oggi. Mi ricordo che da bambino dicevo sempre che voglio fare regista perché mi piaceva guardare film, anche i grandi classici americani, mi piaceva il senso dell'avventura che mi trasmettevano e volevo dare anche agli altri il senso di questa avventura che ricevevo io, raccontando delle storie tramite immagini e quindi è stata una passione che sin da bambino appunto apprezzando questi film avevo, pur non sapendo realmente che cosa significasse al tempo fare il regista e poi alla fine appunto quando diventi proprio grande riesci a prenderti le prime telecamere, a sperimentare con i primi videoregistratori, finalmente riesci a sperimentare e a girare le tue prime cosette per capire se è la tua strada o meno. Per sperimentare, non puoi pretendere di costruire un impianto narrativo di un film se non sai neanche dove mettere le telecamere, prima fai un piccolo corto o pochi dispendio di energie e cominci a capire se hai padronanza o meno della grammatica del mezzo, se riesci a creare questa atmosfera che hai in testa, a dare queste sensazioni e poi dopo il passo successivo è naturale. Che non ti dà di chi appieno o come mi piacerebbe all'attività di scrivere e di girare insomma, quindi riesci a, medio tra le due situazioni, trovo l'equilibrio però la prima mi dà da mangiare, la seconda mi dà grande soddisfazione personale, ecco per adesso. A parte il fatto che le prime sceneggiature non c'erano sceneggiature, c'erano due canovaci, c'erano proprio veramente due appunti che prendevo, poi improvvisavo tutto, i primi quattrometraggi erano un'improvvisazione completa, ma anche lo stesso i denti della luna era un'improvvisazione completa. Con Radice di Tre invece c'era bisogno di una minima struttura, anche perché insomma girando a scuola dovevi rispettare certi tempi, non potevi sai andare oltre, quindi voglio dire non potevi neanche impegnare la gente per chissà quanto tempo, ho sentito il bisogno di mettere il nero su bianco per creare un piano di lavoro credibile. Però lo scrivi in italiano, lo scrivi in italiano e poi gli attori leggono in italiano, ma abituati a parlare quotidianamente anche il friulano, in un batter d'occhio trasformano tutto nella lingua locale. Sì, non tutti, sinceramente, ho fatto uno, due, tre lavori poi alla fine della lingua friulana, gli altri sono in italiano, ma nessuno, anzi secondo me è una ricchezza il fatto di valorizzare appunto alla propria cultura locale, questi aspetti linguistici che così danno una sorta di carattere ai film, li collocano e li fanno sembrare quasi più veri proprio perché girati in questa maniera. Quindi secondo me è un valore aggiunto, insomma, attingere anche alle leggende popolari, c'è qualcosa che ha a che fare con il nostro substrato culturale che per me, insomma, dà un valore aggiunto alle cose, alle storie che vai raccontando. Ma la dizione appunto all'inizio, parlando proprio nella lingua friulana locale, non c'è alcun problema di dizione, anzi, è sempre meglio questo che seguire un italiano perfetto che poi non esiste, no? E lì magari c'è rischi di scadere. E per la direzione, vabbè, fai più prove, più ciak, ovviamente, fai un lavoro di preparazione prima, parli con loro, fai delle prove e poi, insomma, a parte le prime fasi di assestamento, poi tutto comincia a viaggiare molto più liscio. Ma fino adesso l'ho fatto con gli amici, quindi non ho fatto mai un casting vero e proprio, cioè alla fine hai il tuo entourage di persone che conosci, hai il tuo giro di attori, e quindi all'inizio, inizio, inizio, quando proprio non avevo alcun conto, anzi, veramente, i primi cortometraggi, cioè tipo Paura Dentro e Smoke Allucination, li ho fatti il primo con mia cugina, il secondo con degli miei amici proprio, non attori, quindi il mediometraggio anche, e lo stesso Radice di Tre, che è stato il mio primo lungo, poi è stato fatto con gli, ho fatto un piccolo giro, sei nell'accademia di formazione di attori, qua in zona, quindi uno sforzo minimale, ho avuto due o tre contatti, telefonato a questi, ho subito, sempre a livello molto amicale, trovato la loro collaborazione, ma tutti gli altri, poi che fanno da contorno al film, sono tutti personaggi che non hanno nulla a che fare col cinema, cioè è ambientato all'interno della scuola, i professori erano realmente i professori, i bidelli erano realmente i bidelli della scuola, quindi insomma, era una cosa, come posso dire, neorealistica. Ma c'è grande disponibilità da parte delle persone comunque, a venire su questo territorio, a dare una mano, poi alla fine giochi sempre con quella che è la passione, e quindi pur non essendoci soldi, comunque vengono volentieri, come ho fatto io fino ad adesso, fin volentieri, proprio per questa passione che c'hai dentro, che ti spinge e ti stimola. Ma guarda che la solitudine per me è una cosa importantissima, se vuoi raccontare questo tipo di suggestione, la solitudine è questa bolla di tempo che ti crei per tutto, per entrare un po' nel profondo, per ragionare, per pensare, no? Quando uno studia ha bisogno di solitudine, ha bisogno di silenzio, e quindi il silenzio e la solitudine sono la placenza, è il bacino più, è la dimensione più idonea per entrare un po' nel proprio animo, nel descrivere le proprie paure, sentire un po' quali sono le proprie inquietudini. Ma appunto per un aspetto estetico soprattutto, cioè nel senso perché girati con delle telecamere che richiamano un po' la festa di compleanno, il digitale povero, insomma. L'ultimo, come si diceva prima, oltre il guado invece, è stato un piccolo passo, è sempre una macchina fotografica, quindi si parla veramente di un mezzo da un migliaio di euro, però ho due obiettivi rispetto alle telecamere di prima, digitali, comunque con due obiettivi già c'è stato un piccolo salto estetico qualitativamente migliore, insomma. No, vabbè, all'inizio è una necessità, cioè nel senso che non puoi neanche pretendere che la gente ti creda subito in te, io sono ancora nella mentalità della gavetta, no? Prima ti dai da fare un attimino con i mezzi che hai, magari se dimostri di fare qualcosa poi c'è questa cosa che è un incanto, poi diventa man mano che vai avanti un disincanto perché anche se dimostri delle cose, poi alla fine resti sempre lì e devi combattere per riuscire a fare le cose in forma non autoprodotta. Comunque no, all'inizio è una necessità autogestirsi e poi man mano che vai avanti puoi anche distanchi perché c'è comunque investimento di anche poche risorse finanziarie, però un po' di risorse di tasca propria che sempre pesano, insomma, facendo io il lavoro comune e poi fatica fisica perché ti occupi di un sacco di cose, ma ti occupi di tutto quasi, soprattutto all'inizio, no? Quindi dalla parte produttiva diventi elettricista, diventi direttore della fotografia per dire, cioè ricopri veramente tanti, all'inizio va bene, poi cominci a stancarti e cerchi la collaborazione di altri anche per fare un salto di qualità. Facendo semplice domanda, sono fondi, sono poi cifre simboliche, mi sembra che ci si aggirassero al tempo sui 5.000 euro, se non ricordo male in tutto, o 10.000 euro perché chi fa film sa che vanno bene per, appunto, tu hai dato tante comparse e quando cominci a darti a mangiare a tutti, poi alla fine i soldi si spende soprattutto per quello. Ma c'era questo festival di Stresa, del cinema di Stresa, mi sembra che ci fosse in giuria questo Francisco Villalobos, questo produttore portoghese, che non mi ricordo per quale motivo aveva sentito parlare di me, gli erano capitati per le mani dei film, i film che avevo fatto al tempo, gli erano piaciuti e c'era il periodo in cui si distribuiva, mi sembra, radice di Treo Custode Svesti, non ricordo bene perché sono passati parecchi anni, però poi appunto mi hanno invitato ad andare in questo festival, l'ho conosciuto ed è nata una collaborazione per cui abbiamo fatto questo film Occhi, in coproduzione, diciamo che mi è servito per conoscere il Portogallo. Sì, non è che ho pensato di girarli qua, li ho girati qua perché sono di qua e non avendo mezzi sei costretto a girare le tue zone, puoi valorizzare i tuoi posti, è sempre una cosa bella, alla fine sì, nel senso che se vengono film, se ci sono delle opportunità anche per uscire dalla propria regione, anche dall'Italia, perché no, l'importante è fare film, non farli altrove, l'importante è farli dove c'è la possibilità, insomma. lunghissimi, ovviamente, proprio perché appunto non puoi pretendere che la gente venga dalla mattina alla sera, neanche io stesso non potrei venire dalla mattina alla sera per un mese intero e quindi nei ritagli di tempi di tutti, far coincidere i ritagli di tempi di tutti diventa il metodo per riuscire a confezionare le cose, quindi vai avanti anche sei, sette mesi, un anno, mi ricordo che la gestazione di radice di tre è stata parecchio lunga, no, proprio per questi motivi, matti tutti poi alla fine, poi i primi corti te la cavavi abbastanza, quando cominciai a imbastire un lungo, poi appunto i tempi veramente si quadruplicano e vabbè, anche questo Desbestia è nuovo, però mi ricordo un periodo dove ho chiesto, come si dice, aspettativa, quindi tutti eravamo un po' più, guarda è bastato questo piccolo budget per, no, almeno coprire le spese, eravamo già tutti più sul pezzo e con occhi più o meno uguale, no, ci sono tempi un po' più, però tutti gli altri insomma sono tempi lunghissimi, oltre al guado stesso è andato avanti parecchio. Ti occupi di tante cose tu, cioè nel senso se hai uno che come inoltre al guado, poi alla fine direttore della fotografia che mi ha dato una mano, come anche in Radice di Tre, per mordite con me, anche in Costauders Bestia, era un amico, ho conosciuto questo Daniele che poi è diventato anche lui un amico, poi alla fine però tiri anche tu i cavi, cioè nel senso che riduci all'osso il tutto e ti occupi di un sacco di cose. Non a caso io o un altro, prima che la troupe venisse, ci siamo occupati, veramente anche con mia sorella, anche di costruire la scenografia, cioè in due, io e l'altro, abbiamo fatto il grosso del lavoro, no? Io e quest'altro mio collega. E quindi lo prepari così, cioè tiri su veramente quelli che sono indispensabili e tra il resto ti arrangi e fai tu. È chiaro che Costauders Bestia è stato un gran lavoro di permessi, perché ci sono chiese, ci sono cimiteri, ci sono archivi, insomma ci sono varie perle architettoniche poi che dentro le quali siamo andati a girare e lì è stato stato un mio grosso lavoro di preparativi, di permessi veri, proprio per girare all'interno. Quindi le scenografie erano idealmente già pronte, solo che per riuscire ad entrare in questi posti e presenta il progetto prima telefonicamente, poi hai gli incontri, devi farti conoscere, dopo i permessi iscritti, eccetera. Quindi grosso lavoro di Costauders Bestia non di scenografia, ma veramente di produzione, di ricerca location e di autorizzazioni. Questa vecchia casa dei nonni ha tre piani, cioè ha il vecchio bar sotto, no? Che gestivano proprio i miei nonni. Poi ha un primo piano, un secondo piano e un granaio. Il bar non è come così, lo vedi nel film, il bancone è un po' più moderno, invece nel film sembra veramente dei primi del Novecento. Abbiamo dovuto spostare un sacco di mobili, quindi il grosso del lavoro è stato liberare questo secondo piano da tutte le assi di legno che avevamo, da tutti i vecchi mobili, per renderlo libero e dopo arredarlo come meglio. E poi anche per invecchiare, per rendere, come posso dire, l'ambiente, per dare la sensazione che l'ambiente fosse abbandonato, poi alla fine devi andare in giro a raccogliere la cenere che cosparge ovunque, per simulare la polvere, foglie vecchie, secche, autunno, per appunto buttarle sul pavimento, dare il senso dell'abbandono dello sporco. Quindi alla fine ci sta il triplo del tempo rispetto a se avessi avuto al tempo un dipartimento scenografia, allora lì si arrangiano, io non faccio fatica, penso ad altro e magari siccome sono anche più persone di solito se la cavano in minore tempo, poi dipende dal tipo di film, è ovvio che discorsi, qua stiamo parlando di oltreguardo, però ti dico, oltreguardo la preparazione del set più o meno in 15 giorni, insomma, 15-20 giorni. No, nel giro l'ho preso io perché mi piace il camper, da morire, cioè mi piace andare in giro col camper, mi piace avere la casetta dietro, la dimensione di poter entrare in mezzo al bosco, magari anche scrivere nel camper affacciandoti, avendo la sensazione di essere solo e di essere in un ambiente che, se non ci fosse il camper sarebbe un ambiente poi alla fine inquietante, un ambiente, però trovati solo in mezzo al bosco, no? Quindi bastano questi 30 centimetri di ruota che ti sollevano dall'umidità del terreno e questi, non so, due centimetri di spessore di legno che hai la tua piccola bolla che ti fa sentire sicuro e lì è bello avere questa doppia sensazione. Per quanto riguarda invece l'attrezzatura tecnica di quelli che vanno a fare il controllo sugli animali nei boschi, ha collaborato all'Università di Udina e sono andato direttamente in questi reparti dove fanno questo tipo di ricerche e questo tipo di studi e loro sono stati estremamente gentili e mi hanno fornito, mi hanno dato tutte le nozioni per rendere la cosa credibile per come si fanno questi appostamenti e poi mi hanno dato tutti gli strumenti necessari. Chiaramente non è solo la volpe, l'animale in balsamato era un vecchio appunto animale che anche quello avevano già i miei nonni nel granaio, quindi fai vedere che l'attore idealmente lo cattura e poi quando vai a simulare questa sorta di soggettivo, chiamiamola anche se non è la soggettivo, comunque della telecamera sul gruppone della volpe, poi sei tu che saltelli con la telecamera in mano in mezzo al bosco e poi con il montaggio crei questa illusione che si era realmente sulla schiena della volpe. Peccato che non ho fatto un backstage perché era una cosa veramente, eravamo in tre, quattro, cinque, veramente sarebbe stato molto bello vederci realmente lì con la macchina da presa, con me, con quello spruzzino con cui si annaffiano le piante di fronte all'obiettivo dopo aver bagnato chiaramente un po' l'ambiente, e lì hai l'idea che poi alla fine c'è stato un rinforzino in un secondo tempo di questa persona che si è occupata degli effetti speciali, quindi veramente con poco riesci a buttare qualche granello, qualche goccia d'acqua in digitale e crei effettivamente. Poi alla fine se proprio un osservatore attento capisce che, perché se tu vedi certe scene in poche, magari ci sono delle pozzanghere, perché prima abbiamo bagnato, magari è piovuto il giorno prima, se tu vedi bene lì nelle pozzanghere non ci sono, non c'è quel rumore dell'acqua, delle goccioline che cadono, quindi un attento osservatore capirebbe subito che la pioggia è quasi solo di fronte all'obiettivo, però insomma bisogna stare lì a guardare il piano dell'uovo, l'effetto totale c'è, quindi a me basta quello. No, semplicemente c'era questo succo di amarena, se non ricordo male, ho appreso questa stampa, questo quadro in camera mia, telecamera dall'altra parte, una siringa con dentro appunto questa amarena, l'ho piantata nell'occhio dall'altra parte e pian piano ho fatto uscire questo sangue, insomma anche dalle, come si chiamano, non mi ricordo più, delle stigmati di Gesù, ho fatto queste triboli di sangue. Ha incidio un pochettino, no incidio perché l'audio è importante effettivamente, non è perfetto perché in tantissime occasioni non lavoravo mai col fonico, c'è una figura che ho penalizzato proprio perché non ce la facevo io qualche volta, o se no direttamente il suono della telecamera, il suono in presa diretta, con tutti gli svantaggi che un suono in presa diretta poi ha. La prima, diciamo, come posso dire, sperimentazione di distribuzione delle cose che avevo fatto è stata con la stessa struttura con cui adesso sto realizzando il primo, diciamo, film con un budget realmente sostanzioso, cioè sempre basso budget, però, insomma, rispetto a come facevo prima le cose, questo qua è un... E quindi sono questi del... all'inizio era questo centro, il CEC, il centro espressione cinematografica di Udine che adesso ha ampliato, si è ampliato e c'è anche, diciamo, è anche Tucker, la Tucker Film, insomma, che sta rispetto. Ecco, con questi ragazzi, questi personaggi, questi professionisti ho avuto l'occasione, già mi conoscevano al tempo perché partecipavo alle loro, come posso dire, alle loro rassegne, ai loro festival di cinema, anche friulano, quindi era già un altro rapporto amicizia al tempo, e con questi ho sperimentato la prima... loro hanno sperimentato la prima distribuzione del DVD Radice D3 e poi, sempre tramite loro, conoscevano questi della Replace, un video di Roma e hanno ceduto poi per il custode as bestie la distribuzione a loro. Poi gli altri due film, film sporco e occhi, sono fermi nel cassetto, quindi non c'è alcuna distribuzione, oltre il guado, è stato distribuito un po' ovunque, qui in Italia, con la Cechigorium video, e adesso vedremo questo, insomma. Beh, certo, certo. Però i festival, anche quelli non blasonati, quelli... mi sono serviti tantissimo, a parte appunto l'emozione che spinge sempre, che è il motore di ogni cosa, per cui fai questi viaggi in questi paesi, incontri persone che magari apprezzano il tuo lavoro, ti ospitano, stai di una notte, conosci gente, fai... e poi servono perché altrimenti non avrei avuto questo... appunto, non sarei partito da questa nicchia, non avrei avuto queste persone che mi seguono. Quindi anche i festival così, che uno dice che sembrano festival minori, invece per quanto riguarda me non lo sono stato affatto, non lo sono stati affatto, insomma, sono stati importantissimi, per riuscire appunto a farsi conoscere, altrimenti dove vai? Sempre positivo, cioè sempre non mi sono mai arrabbiato quando ho fatto critiche negative, chiaramente sei contento quando le critiche sono positive, e cerchi di trarre come in ogni cosa il meglio rispetto a quello che ti dicono, no? Quindi prendi anche le critiche negative e capisci se effettivamente ci sono delle cose che puoi migliorare, insomma, quindi va sempre bene la critica, sotto ogni punto di vista. Vorrei entrare anch'io in questa dimensione un po' più tradizionale, no? Di circuitazione delle cose che faccio, per raggiungere proprio più persone, non solo i seguaci della nicchia, insomma. Vediamo se con questo film, con l'Attacca, questo Angel in the Wall, in inglese, cioè l'angelo dei muri, in italiano, magari potrebbe essere un passo successivo.